28 maggio 1871 la comune di parigi viene soppressa nel sangue l'esperienza di autogoverno è iniziata il 18 marzo il 21 maggio l'esercito di versailles guidato dal generale in mac maon inizia la riconquista di parigi dando il via alla cosiddetta settimana di sangue al termine della quale si conteranno almeno 30.000 morti